Buonasera e bentornati a Fano TV, questo è Primo Cittadino, il sindaco è già arrivato nei nostri studi, pronto per una nuova puntata. Ben arrivato. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Come sapete questo è il programma dedicato a tutti i sindaci del nostro territorio ma anche alle vostre segnalazioni. 0721 86 14 33 è il numero di telefono per intervenire in diretta e quindi parlare con Massimo Serio oppure 338 49 68 250, questo invece è il numero di cellulare nel quale potete inviare messaggi anche tramite l'applicazione di Whatsapp. Sindaco, anche nel corso del nostro telegiornale Occhia alla Notizia abbiamo fatto vedere la giornata di vaccinazioni anche al Codma di Rosciano, la macchina organizzativa che ormai è partita da settimane in realtà, ufficialmente da sabato scorso e finalmente anche gli over 80 iniziano a ricevere queste dosi di vaccino. Sì, sta andando tutto per il bene, ormai siamo collaudati, devo dire alla nostra organizzazione per quello che riguarda Fano è sempre ottima anche rispetto ad altre realtà. Questo è un momento importante perché il vaccino è veramente l'unico strumento che ci consente di debellare questa pandemia. E' il passaggio importante quindi quando sarà il turno di ogni di noi non dobbiamo sottrarci. Adesso è il momento degli over 80, poi sarà il momento di tutti gli operatori del mondo della scuola, quello delle forze dell'ordine, delle polizie municipali, dei volontari che operano in questo settore, della protezione civile Croce Rossa e poi man mano tutte le categorie in base a quelle che sono più a rischio e che sono più a contatto con le persone. Anche lei verrà vaccinato? Beh, quando sarà il mio turno non mi sottrarrò e lo farò con piacere, ma ovviamente rispetterò quello che sarà il mio turno e quello dei sindaci, insomma. Devo dire che già potremo fare una puntata con tutte le segnalazioni che ci sono arrivate in questa ora, però partiamo dal bilancio perché è stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2021-2023, cerchiamo anche di capire quale sarà il futuro della nostra città. Quindi su che cosa punterete? Beh, intanto il bilancio è sempre votato a maggioranza, sfido a trovare un comune d'Italia dove questo non avvenga, è il gioco delle parti. Beh, intanto è un bilancio che tiene conto della situazione, è stato un bilancio difficile da definire, parlo del bilancio di previsione perché ovviamente con la pandemia abbiamo avuto molto meno entrate e anche in previsione ce ne saranno ancora meno rispetto allo scorso anno. Siamo riusciti con le risorse messe a disposizione dal Governo lo scorso anno che abbiamo usato con parsimoni e ci hanno consentito di chiudere anche il bilancio di previsione. C'è un occhio di attenzione forte verso quelle che sono le politiche sociali perché ovviamente una comunità non può non tener conto di quelle che sono i disagi e le difficoltà delle persone, delle famiglie. Guarda gli investimenti, guarda il mantenimento dei servizi, non si è ovviamente toccato assolutamente la leva tributaria, anzi alcuni settori siamo intervenuti con delle egevolazioni o addirittura mettendo risorse nostre per andare incontro anche a quei comparti economici che sono stati fortemente colpiti. Ovviamente sarà un bilancio che dovrà essere monitorato strada facendo perché ovviamente qui facciamo riferimento a quelle che sono le previsioni e se le previsioni statistiche dovessero non essere veritiere dovremmo monitorare anche la spesa perché il bilancio come tutti sanno di un ente pubblico come il Comune deve essere sempre a pareggio. Poi c'è tutta una serie di interventi previsti per investimenti anche per opere pubbliche sulla quale stiamo già lavorando, sulle progettazioni. Ci scrivono da Ponte Sasso, periferia di Fano, non dimenticatevi di noi. Non ci dimentichiamo della periferia, io vivo in periferia quindi ci tengo a sottolinearlo. In questi anni è chiaro quando le cose vengono fatte poi giustamente si guarda quello che c'è da fare. In previsione ci sono opere, altre opere sono state fatte onestamente e adesso fra l'altro è partito anche il bando del Waterfront che entro maggio deve vedere l'esposizione dei progetti presentati. Lì fra l'altro a Ponte Sasso ci saranno anche altri interventi da manutenzioni stradali, interventi anche nel verde. Insomma ci sono delle previsioni che non sono per domani ovviamente. Nella macchina pubblica c'è una programmazione che deve fare i conti anche con quelle che sono le procedure. Può sembrare banale ma anche fare delle gare d'appalto occorrono dei tempi, tant'è che anche le asfaltature programmate per lo scorso anno andranno in opera in questa primavera. Ci stanno scrivendo in tanti per chiedere informazioni sugli orti Garibaldi, frazionamento, per cercare di dare una risposta ad una situazione che da tanti anni è rimasta irrisolta. Beh lì sì, conosco molto bene la situazione, è stata ferma per tanti anni e da un anno a questa parte ci siamo adoperati con determinazione, abbiamo già dato gli incarichi per delle progettazioni per quello che riguarda la reggimentazione delle acque che era propedeutica al frazionamento e si sta andando avanti, insomma quegli impegni che si erano assunti adesso sono stati, sono andati a buon fine, insomma diciamo così. Buonasera, vorrei chiedere se fosse possibile venire a tagliare l'erba all'ex mattatoio, dato che questa estate non è mai stata tagliata ed è diventata veramente alta, pericolosa per bambini e animali che vi passano, anche in questo caso è ASET che continua ad avere la gestione del verde pubblico. Sì, adesso poi lo segnaleremo, ovviamente l'erba non viene tagliata in questo periodo, quando inizieranno i primi interventi comunque ecco mi faccio carico di segnalarlo a chi di competenza. Sempre da Ponte Sasso chiedono nel terreno che avete pulito vicino all'ex fabbrica Roberti e Paoletti, se ci farete il parcheggio e se si entro quando sarà finito, quindi sempre dalla zona di Ponte Sasso qui a... Sì, adesso non sono aggiornato, prendo l'impegno di verificarlo. Potatura delle piante inviato in bacio nel viale a ridosso dell'aria verde con il crescere delle foglie viene coperto totalmente l'illuminazione pubblica creando anche non pochi problemi, anche questa è un'altra segnalazione. Sì, fra l'altro su questo devo indicare, segnalare che si sta lavorando su alcune aree verdi, l'assessore sta monitorando le progettazioni, i due interventi previsti, uno dei due è già partito, parliamo del parco di Carrara e quello di Tombaccia, sulla quale avevamo preso anche degli impegni già in precedenza e quindi vedranno gli interventi nelle prossime settimane. Sono già stati appaltati, quindi su questo si interverrà e verrà fatto un lavoro importante in entrambi i giardini. Ovviamente non saranno solo questi, negli anni programmiamo interventi in tutte le aree verdi della città, dei quartieri, perché reputo che siano un elemento importante per la qualità della vita della nostra gente. Ovviamente non possiamo fare tutto subito, però abbiamo candelializzato tutta una serie di interventi, in alcuni siamo già intervuti gli anni precedenti, adesso interveniamo in questi due e poi, strada facendo, faremo anche altri interventi. Ci hanno inviato durante la settimana alcune fotografie e quindi siamo riuscite a prepararle in sala montaggio. Questa è una croce, ci hanno scritto, che si trova nell'incrocio tra Via Falcinetto e Cucurano. L'avevamo segnalata anche durante il corso del nostro telegiornale poche settimane fa e evidentemente è ancora così. Ci scrivono che comunque è pericolosa e sarebbe bene intervenire. Sì, queste sono le mie croci. Devo dire che l'ho segnalata in più occasioni, aggiungo io, anche con un tono polemico con i miei, anche il Ponticello che sta dietro la croce, che ha avuto da tempo un danno causato da un incidente, quindi fra l'altro copre la spesa anche l'assicurazione. Quindi già da domani ritornerò alla carica su questi interventi piccoli che non ci fanno onore, mi fanno arrabbiare, devo dire la verità perché anche io mi arrabbio quando le cose non le facciamo come dobbiamo farle. Quindi sono piccoli interventi che vanno fatti. Io rinnoverò da domani la richiesta di intervento su questo. La recensione che delimita il circuito ciclistico Marconi in vari punti è ridotta proprio a Brandelli, talmente indecorosa che richiede un intervento urgente. Lì ci sono degli interventi che prevedete di programmare, di realizzare. Ci sono degli interventi che ovviamente richiedono tutte le risorse. Lì non è un intervento importante perché non parliamo di un metro. Comunque devo dire che sul circuito Marconi siamo già intervenuti, abbiamo fatto tutto il manto nuovo, insomma la palestrina. È una struttura sportiva molto bella, di qualità, molto apprezzata. Tanta gente la utilizza, quindi anche su questo l'intervento ci sarà. Adesso magari interveniamo sui tratti che sono più indecenti, diciamo così. Però la struttura è ben tenuta ed è una bella struttura. Abbiamo anche due video da farvi vedere. Partiamo con il primo ed è un video che ci arriva da Metauriglia, un telespettatore che dice siamo cittadini di serie B. Il ristorante La Lanterna conduce verso l'incrocio della strada Ponte Alto. Noi abitiamo in zona e qui dobbiamo superare questi veri e propri avvallamenti perché evidentemente siamo cittadini di serie B in quanto il comune non si cura di ricoprire anche solo con un po' di breccia queste buche profondissime che provoca ovviamente danni alle auto, a chi le percorre. E così è lungo tutto il percorso perché purtroppo non è solo un breve tratto ma è tutta la strada che conduce fino alla statale, alla Lanterna. Evidentemente questa amministrazione non si cura di Metauriglia ignorando la viabilità sulla statale che provoca vittime e uccisioni di animali. Tanta gente che è rimasta investita, ha perso la vita ma non soltanto, non ci permette nemmeno di agevolmente muoverci perché ogni volta è il rischio rottura delle auto. Ringraziamo il sindaco, ringraziamo l'amministrazione comunale che evidentemente ha altre priorità. Parlano di asfaltatura, sindaco anche da Via Regolo a Via Falcineto perché dicono che è disastrata ma gli faccio un attimo in un elenco di quello che è arrivato in questa ultima mezz'ora ci sono anche delle buche in strada di mezzo Metauriglia e anche qui ce l'hanno scritto in tanti una telespettatrice ad esempio ci dice mia mamma anziana ha necessità di cura e le persone che devono venire a casa si lamentano e non è più possibile andare avanti così sono anni che non fate niente ancora buche in Viale Frusaglia fino a Ponte Mimmo buche in Via del Ponte a Metauriglia questo l'abbiamo detto e ce ne sono insomma tante altre che ci stanno arrivando man mano ci dicono anche Via Luca della Robbia Sì, allora su questo però dobbiamo fare chiarezza l'amministrazione è attenta su tutta la città la città ha 400 chilometri di strada non dimentichiamo per un valore di intervento di 40 milioni circa 40 milioni neanche lo Spirito Santo riesce a far fare un intervento in 5 anni, in 4 anni, in 10 anni così importanti allora da quando sono insediato abbiamo asfaltato circa 110 chilometri di strade con un criterio, quello della priorità quella della situazione delle strade, quella del traffico, dell'utilizzo il signore ha perfettamente ragione io attualmente lo so, perché sono andato anche personalmente più di una volta sono passato con la mia macchina perché io la giro anche la città sono passato apposta per vedere quella situazione ricordo anche il telespettatore penso due incontri fa di Primo Cittadino che mi aveva segnalato quella strada lo ricordo perché non mi sono dimenticato degli impegni assunti abbiamo già fatto la nuova lista dei prossimi interventi che dovranno essere ancora appaltati e tra questi c'è sia quello davanti alla Rema quella traversa a cui avete dedicato un servizio c'è anche questa strada perché il signore ha perfettamente ragione però vorrei anche dire che non ci siamo dimenticati di Metaurilia Metaurilia è piccolina intanto vorrei ricordare l'intervento fatto sul parcheggio qualche anno fa vorrei ricordare l'intervento fatto di messa in sicurezza della struttura dove c'è il circolo ha bisogno di altri interventi quel progetto, fra l'altro devo dire qui c'è un gruppo l'associazione Albatros con i cittadini hanno fatto un bellissimo lavoro un eco museo, un progetto che ci hanno donato abbiamo fatto nostro lo abbiamo candidato ad un bando periferie del governo sperando che venga finanziato stiamo lavorando sulla pista ciclabile anche oggi ho avuto un incontro operativo con l'assessore sulla quale siamo dati delle tempistiche stiamo dando degli incarichi proprio per la progettazione dove includeremo anche un attraversamento del ponte perché la regione ha iniziato a realizzare ponti ciclopedonali adesso ha in programma quello sul Cesano e quello successivo dovrà essere sul Metauro adesso fra l'altro abbiamo anche una nutrita presenza in regione quindi questo dovrebbe essere anche d'aiuto e quindi stiamo lavorando su questo sulle scogliere di Metauriglia c'è un intervento di 4 milioni abbiamo fatto elaborare e approvare tutto il progetto anche della parte che non è stata finanziata in modo tale che quando arrivano ulteriori risorse si possa essere subito operativi in questi giorni il provveditorato delle opere pubbliche sta lavorando sul bando e io ogni lunedì mattina telefono al provveditorato perché quando ci sono altri enti che svolgono delle funzioni se sono anche più grandi e più lontani sono sempre più lenti rispetto all'amministrazione comunale l'amministrazione comunale avrà tanti difetti però abbiamo un vantaggio che la monitoriamo direttamente certe cose se ci assumiamo delle responsabilità ne rispondiamo noi direttamente anche nei confronti dei cittadini aggiungo anche che al di là delle polemiche che ci sono state perché poi bisogna essere anche informati su tutto anche per quello che riguarda la fattibilità della strada della viabilità sud io ho già a suo tempo avevo incontrato anche molto prima degli incontri che hanno fatto i comitati in mia assenza con i sindaci di altri comuni devo dire su questo abbiamo c'erano fatti cariche e assunti l'onere di farlo fare noi poi trattandosi di un'area che riguarda tre comuni abbiamo già fatto un incontro la settimana scorsa con la provincia, con il presidente, con i tecnici eravamo presenti parte della giunta dove abbiamo concordato ho già inviato la lettera formale l'ho inviata anche per conoscenza agli altri sindaci perché poi la convenzione dovranno firmarla anche loro insieme a Fano per dare in carico alla provincia di fare il progetto di fattibilità di prefattibilità perché altrimenti parliamo esprimiamo solo chiacchiere e quando si parla di opere complesse bisogna avere elementi concreti e quindi la provincia adesso sta valutando però così informalmente ha già manifestato la volontà di realizzarlo ed è un lavoro di 2-3 mesi in modo tale da fare dei ragionamenti sulle fattibilità e sulle possibilità di dove intervenire poi bisogna inserirsi su quelli che sono i canali di finanziamento perché su questo la Regione può svolgere un ruolo importante con il Governo per inserirsi sul recovery plan personalmente sto facendo anche un lavoro con tutti i sindaci delle due vallate e posso dire che le due opere che stiamo inserendo e vogliamo inserire delle infrastrutture importanti sono quelle di un'intervalliva che riguarda le due vallate e il congiungimento sulla costa di questa ulteriore possibilità che possa essere alternativa alla statale la statale che è competenza ANAS non lo dimentichiamo e tutta una serie di interventi non sono possibili noi non possiamo intervenire sulle determinate strade che non sono considerate centro abitato tant'è porto un piccolo esempio ricordo l'attraversamento a Torrette che per vent'anni ci hanno ragionato noi siamo riusciti poi a ottenerlo ma non perché si potesse fare fare due strisce pedonali non ci vuole nulla era per avere l'autorizzazione per poter intervenire mi ero mosso anche con un tavolo in prefettura quindi ci sono dei problemi burocrati però vorrei dire che su Metaurilia c'è un interesse vero e forte poi la città non è Milano ma comunque ha le sue complessità i quartieri sono tanti tutti sono di serie B io che capisco perché ognuno guarda le proprie problematiche è normale è normalissimo lo faccio anch'io da cittadino l'ho fatto in passato quando poi si ha una responsabilità uno ha una visione di un certo tipo però ecco scusatemi se ho anche alzato un po' il tono della voce ma ci stiamo lavorando veramente ci mettiamo tutta la buona volontà con tutte le difficoltà che ci sono non abbiamo risorse illimitate quindi la bravura è anche quella come abbiamo fatto in cinque anni e di questo me ne vanto perché penso c'è stato un contributo importante è un'azione dove sono stato veramente bravo faccio il falso modesto perché la falso modesto in certi momenti non ci vuole è stata la capacità di trovare risorse aggiuntive che si sono aggiunte alle nostre poche risorse di comuni di un comune come Fano di 60 mila abitanti che ha un bilancio ordinario di 60 milioni e anche per questo si sta battendo a livello nazionale ecco però ci sono sì ecco poi concludo perché la faccio lunga sì anche perché abbiamo una marea di messaggi e siamo in difficoltà adesso ho aperto un fronte perché su questo mi sono veramente arrabbiato perché troppe volte i canali di finanziamento riguardano soltanto le città a capoluogo e questa è un'ingiustizia perché i cittadini sono tutti uguali se prendiamo le Marche Fano è la terza città delle Marche e se guardiamo le città a capoluogo il 50% delle città a capoluogo sono come superficie quadrate più piccole di Fano un terzo hanno meno abitanti di Fano ecco pensate solo questo nella regione Marche tre province che ha città a capoluogo sono più piccole di Fano e su certi finanziamenti noi non possiamo partecipare perché non siamo città a capoluogo e sono risorse importanti poi quando dice perché quelli fanno quello e fanno perché hanno dei canali di finanziamento che noi non abbiamo su questo ho aperto un fronte ho chiamato anche tutti i colleghi che si trovano in questa situazione e ho fatto breccia perché ovviamente non possono che condividere sono a fianco a me e adesso andrò oltre non solo voglio che questi canali siano aperti a tutti ma provo anche a chiedere alcuni non dico un risarcimento però almeno un finanziamento che si è riservato esclusivamente a coloro che in passato negli ultimi anni sono sempre stati escusi dunque Sindaco comunque ci stanno arrivando tante altre segnalazioni per quanto riguarda le buche lei lo potrei immaginare abbiamo anche una telefonica pronta Sindaco anche Via del Lazio ridotta anche la Brodo questo qui siamo al Poderino da tempo richiede un intervento di bitumatura la situazione peggiora sempre più quando arriva il nostro turno altri interventi ci passano sempre avanti ma è possibile essere dimenticati così? non è dimenticati però ripeto le strade da asfaltare sono ancora tante per tanti anni non sono state asfaltate ma non voglio dare responsabilità perché c'erano anche situazioni di complessità il patto di stabilità che aveva reso ancora più difficile questi interventi abbiamo le strade periferiche come quelle che viene citate prima a Camminate a Magliano insomma ce ne sono diverse alcune sono già inserite negli interventi che faremo adesso a primavera altre nel prossimo e altre rimarranno escluse al turno successivo però non riusciamo a fare più di tot chilometri alla volta sentiamo chi c'è in linea buonasera sì buonasera sindaco la chiamo da Metauriglia sempre sono il presidente di Metauriglia la ringrazio innanzitutto per aver speso prima diversi argomenti appunto sulla nostra località e siamo felici di sentire dell'eventuale fattibilità o comunque lo studio che viene messo agli atti della complanare Tombaccia Marotta sono felice anche di sentire parlare delle scogliere che riguardano un po' tutta la zona di Fano Sud e le volevo solo specificare un paio di cose ah per le scogliere l'obiettivo è farle partire dopo l'estate? certo sì sì so che in questi periodi si doveva arrivare alla gara d'appalto ecco mettiamolo a schermo intero così facciamo vedere a casa la gara d'appalto stanno lavorando in questi giorni adesso tutto dipende dalla velocità del provveditorato io mi sono preso l'impegno ogni lunedì mattina telefono alla responsabile dell'ufficio appalti del provveditorato perfetto perfetto e agganciandomi invece al video che vedi in sovrimpressione abbiamo ripreso con un drone appunto le varie arterie che partono dalla strada nazionale e arrivano alla via Ponte Alto perché abbiamo visto che il comune ha agito correttamente su tutta la via Ponte Alto sistemando alcune zone però purtroppo le arterie come vedrà rimangono ancora purtroppo con queste voragini con queste buche che come diceva prima il telespettatore sono abbastanza pericolose quindi le chiediamo se magari nei prossimi interventi di manutenzione ordinaria si riuscisse quantomeno a coprire le quattro arterie principali che sono quelli che dalla nazionale portano via Ponte Alto allora guardi tutte le direi una bugia perché vorrebbe dire utilizzare tutte le risorse per quelle strade perché purtroppo hanno un difetto sono lunghe però una parte è già inserita nel prossimo piano bene una bella risposta almeno mi hai ascoltato ecco non tutte le altre cercheremo poi più si aumentano le strade asfaltate più ci consente di essere tempestivi nella manutenzione perché si riducono le strade che hanno bisogno di quella manutenzione ordinaria date dal degrado andiamo avanti con i messaggi Sindaco buonasera volevo sapere che soluzioni ci sono per i parcheggi per i residenti del centro storico dopo aver reso Bluvia e Gramsci e tolta la possibilità di parcheggiare con disco orario come promesso dopo aver tolto i parcheggi di via Garibaldi qualche anno fa a dicembre c'è stato un incontro con l'assessore Tonelli ma siamo ancora in attesa di risposte quindi chi abita in centro storico come può fare l'assessore ha il compito di avanzare una proposta so che ci sta lavorando lascio a lei poi la presentazione di questo è un impegno che si è preso anche in giunta di elaborare poi ci sarà anche un confronto con gli interessati nel parcheggio del Buario leggevo in questi giorni sui quotidiani la possibilità di farlo fuori dal centro storico questo sta in un ragionamento complessivo dei parcheggi dico anche che ci sono tante società che con i project sono interessate a realizzare strutture di questo tipo ormai ci sono poi tutte le città vicino ai centri storici ovviamente queste si abbinano con le politiche degli stalli blu perché altrimenti questi parcheggi poi non funzionano e non rientrano negli investimenti fatti si sta ragionando abbiamo già destinato risorse per comunque sistemare quegli attuali che sono in una situazione di degrado foro buario parcheggio al pronto soccorso quello di sport park in Sassonia questi per la risistemazione dell'asfalto altri come quello di via risorgimento in Viale Kennedy invece ci sono dei progetti che abbiamo già finanziati e siamo sulla fase esecutiva quindi dovranno essere solo appaltati lì aumenteranno i posti per parcheggiare ma saranno anche belli che tengono conto anche dell'impatto ambientale con il verde con gli alberi quindi sui parcheggi stiamo facendo un lavoro importante dovremmo avere qualcuno in linea per lei buonasera 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 io chiamo da Castellini di Suasa anche se sono di Stalorenzo in campo e questa sera sono a casa di mia suocera sono un ex dipendente della Sighting quindi anche per lavoro ho girato molto e specialmente gli ultimi dieci anni della mia vita lavorativa più che l'aereo o altre cose ho operato il treno perché facevo capo su Foggia dove poi andavo in Val d'Agri dove c'è un gestimento di petrolio e lì avevo una macchina personale che da Foggia mi collegava alla Val d'Agri questa è tutta la premessa anche per diciamo la premessa per dire dell'utilità del treno quindi ho adoperato tanto il treno nella parte finale della mia vita l'ho vista alla grande comodità parlo stasera proprio perché sento anche oggi sul giornale della Fanno Urbino e io penso che questa è un l'amministrazione di Fanno si deve fare veramente portatore di questa esigenza anche perché Fanno è capofila di quella valata del metallo quindi la Fanno Urbino non può essere lasciata nel dimenticatoio anzi riprenderla nell'ambito della chiusura dell'anello delle linee interne marchigiane lo vedo sempre anche con grande importanza anche perché essendo anche di Saloresso Pergola aveva la stazione vicina aveva la ferrovia che la collegava su Fabriano Roma quindi pensare a una reattivazione ma forte non soltanto diciamo una piccola ferrovia ma è importante anche come chiusura dell'anello e Pesaro Fanno Fabriano Roma senza passare su Falconare sia una bella cosa grazie per quello che potete fare grazie in realtà ormai se ne parla da tantissimi anni il signore dice una cosa aggiuntiva che io concordo a pieno il vero dramma di isolamento di questo territorio è il collegamento ferroviario tra l'Adriatico e il Tirreno se noi pensiamo il tempo che si impiega per andare a Roma dove ancora c'è un binario singolo ed è inaccettabile nel 2000 devo dire tra i progetti dei recovery plan c'è il raddoppio della Falconara Orte ed è una buona cosa ed è fondamentale o altra opera interessante sarebbe il collegamento da Fossombrone a Fabriano questo io la reputo veramente interessante o per quello che riguarda poi andiamo sulla tratta Fano Urbino di cui se ne parla ormai in modo da tanto tempo in modo strumentale mi ci metto anch'io tra questi però dove mancano gli elementi gli elementi veri allora c'è un problema la tratta se dobbiamo dire le cose per quel che sono se è stata chiusa c'è un perché se funzionavano l'avrebbero chiusa nell'ultimo anno avevano strappato 19 biglietti in un anno 365 giorni è chiaro che io sono di quelli che pensano che il trasporto da ruote debba essere sempre più trasferito su rotaia perché è sensibile all'ambiente sono più comodi io per andare a Roma preferisco il treno nonostante le ore rispetto ad andare in macchina e anche io sono di quelli che ha incrementato l'utilizzo del treno per l'uso per lavoro e per questioni personali allora però l'attuale tratta secondo me ha delle problematiche perché se tutti parlano di investimenti ma non c'è mai stato nessuno che veramente ha deciso di investire qui c'è la necessità che chi ha la responsabilità faccia chiarezza una volta per tutte perché se no ci basiamo solo sulle dichiarazioni che ognuno di noi fa di che sono queste responsabilità sin no beh intanto stanno nelle politiche non stanno nel comune della regione perché questi interventi qua sono interventi talmente importanti che nessuno i privati non vanno a investire se non hanno un ritorno allora una tratta come quella a cui faceva riferimento il signore secondo me andrebbe pensata addirittura spostata perché gli attuali binari hanno necessità se un domani se ci sono le condizioni perché secondo me non ci sono anche le condizioni per come sono oggi con la vicinanza delle case per gli interventi che sono stati fatti negli anni rispetto per il dopo Livorno con le questioni di sicurezza che non sono quelle di 30 anni fa ci sono tutta una serie di misure che l'attuale struttura non consentono più però non ho la competenza per fare queste affermazioni so che vogliono dare c'è un milione per fare questo studio di fattibilità lo si faccia una volta per tutte almeno ci sono elementi chiari io ho sempre detto una cosa la peggior esempio che possiamo dare è non fare nulla e mantenere ancora la tratta la situazione che è cioè di degrado dove è l'abita naturale per tutta una serie di animali io sono per realizzarci a latere quindi senza compromettere oggi i binari per una pista ciclabile perché è una struttura straordinaria si immerge nel verde è di comodità interna per i quartieri in sicurezza e diventa una ciclovia anche di interesse turistico ma proprio per la gente di Fano e di Intorni è un'idea che piaceva anche ai colleghi sindaci della vallata sindaco stringiamo perché abbiamo già altre persone io ci farei anche una metropolitana in superficie leggera che può convivere con questo però è chiaro che non è il sindaco di Fano che decide noi le nostre indicazioni le abbiamo date con chiarezza e precisione sono altrettanto convinto che la stramaggioranza della gente di queste zone voglia questo tipo di interventi e oggi chi ha la responsabilità si muova di conseguenza non perdiamo le risorse destinate si facciano queste verifiche una volta per tutte in modo tale che sappiamo cosa è possibile cosa non è possibile e in base a quello ci muoviamo di conseguenza nel frattempo senza prendersi in giro realizziamo anche la pista ciclabile a lato della ferrovia perché è voluta dalla stramaggioranza dei cittadini ed è un'infrastruttura comodissima sentiamo subito chi c'è in linea pronto buonasera la sentiamo buonasera prego una domanda facilissima fermiamo la strage dei tigli questa cosa chiedo scusa non si è sentito bene ripeto fermiamo la strage dei tigli i tigli gli alberi luigi rossi tutti gli anni vengono deturpati allora se noi facciamo questa cosa qui tra un po' li parliamo perché quelli sono stati piantati nel 1900 e sono venuti su tranquillamente adesso non si sa perché da anni li stiamo massacrando come tutti gli alberi di Fano quindi io chiedo a lei perché siccome faccio le domande a chi è lì a chi i responsabili ah ci hanno detto di fare così e ora che lei come sindaco lo sa benissimo e lo sa tutta Fano fermiamo la strage dei tigli perché tagliati così come si va a vedere ultimamente ultimamente stanno ancora tagliando li hanno massacrati quello non è un albero da tagliare così gli dai una portatina non c'ha più la sua forma a pigna a giugno non fioriranno e quindi noi dobbiamo fermare questa cosa la ringraziamo per la segnalazione anche in questo caso ce l'ha in carico a Zez ma come sapevo si affida anche degli esperti adesso siccome le segnalazioni sono state diverse in questi mesi ovviamente c'è un'attenzione maggiore e anche un confronto per rivedere le modalità allora dobbiamo andare in pubblicità ma poi il sindaco mi deve promettere che saremo velocissimi perché dobbiamo parlare dello stadio della caserma di vigili del fuoco zona trave ritorneremo anche in centro storico il centro Alzheimer Margherita insomma abbiamo davvero tante segnalazioni per lei a tra poco siamo tornati in diretta insieme a me c'è il sindaco di Fano Massimo Seri se mi consente lo volevo fare in apertura sono un sindaco rappresento un'istituzione oggi è avvenuto un atto grave un giovane ambasciatore un carabiniere della sua scorta sono stati uccisi in terra d'Africa mentre svolgevano una mansione in rappresentanza anche del nostro paese e io penso come rappresentante dell'istituzione come cittadino italiano che anche in questi momenti un pensiero glielo dobbiamo rivolgere allora ecco ci tengo a dirlo sono in un momento pubblico di fronte a una telecamera e quindi quando parla un sindaco esprime anche il pensiero della sua comunità della sua cittadinanza io penso che queste parole le abbia volute pronunciare qualsiasi cittadino che vive nella nostra città allora ci tenevo anche da queste telecamere portare questo messaggio di solidarietà di vicinanza alle famiglie e l'onore a chi diventa vittima nel servire il proprio paese nel svolgere una funzione pubblica come è nel loro caso grazie sindaco allora dicevamo ci sono arrivate anche delle fotografie parliamo ovviamente rispetto a questo dei problemi ben minori dunque ci arrivano dalla Rocca Malatessiana intanto una telespettatrice ci scrive io vorrei sapere quando si comincerà a fare qualcosa di concreto per tenere più pulita questa città e noi confidiamo anche nel buon senso dei cittadini quest'altro telespettatore invece ci dice alla Rocca proseguono i lavori di riqualificazione però che cosa ha intenzione di fare sindaco a proposito dei ragazzi che gettano rifiuti e bottiglie dalle mura della Rocca sopra i binari del treno e sul marciapiede di via Gentile da Fabriano aspettiamo l'incidente o peggio? ecco sicuramente una cosa che le telecamere vediamo anche quelle immagini se possiamo farle vedere però quelle sono sul lato ferrovia mentre dall'altra parte non è così la situazione sulla Rocca come sugli altri monumenti contenitori vedete qui la situazione è diversa abbiamo in questi anni fatto interventi significativi vorrei ricordare come oggi il bastione Sangallo come oggi la Rocca e poi su questo vedete le impalcature stiamo facendo ulteriori lavori come il Pincio e il bastione Nuti insomma c'è un'attenzione per rendere bella questa città ma soprattutto per farla vivere perché la Rocca da quando siamo intervenuti oggi è diventato un luogo di tante iniziative di tanta partecipazione stiamo proseguendo come vedete dalle immagini stiamo sistemando tutto il tetto della parte della sala sopra l'ingresso stiamo sistemando anche le parti delle mura verso la ferrovia ma non sopra i binari leggermente più indietro e questo è un ulteriore spazio da utilizzare e devo dire c'è anche una bella panoramica un bel vedere quindi è anche emozionante e rende anche orgogliosi di essere di far parte di questa città e avere questi patrimoni poi speriamo anche di poterli aprire appunto la cittadinanza sì poi sono una scoperta continua perché anche lì abbiamo trovato un cunicolo siamo andati anche insieme come no ogni volta si scopre qualcosa di nuovo un cammino una grotta d'altronde è una città di due mila anni di storia con tutto il periodo romano medievale quindi ognuno ha aggiunto delle belle cose stiamo lavorando programmando anche di fare degli interventi esplorativi sotto la piazza per capire cosa troviamo sotto pensate anche lì che è vuota se un giorno potrà essere visitabile cosa può diventare la nostra città da Centinarola Sindaco ci chiedono uno sgambatoio quindi per i nostri amici animali ma anche per la scuola elementare se farete qualcosa perché ci scrivono dalla prima guerra mondiale dagli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale la frazione di Centinarola ha sempre avuto una scuola elementare hanno ragione sulla scuola elementare c'è un su questo lo rioffermo perché ho avuto anche critiche in campagna elettorale da chi ovviamente non era della mia compagine ma questo l'avevamo condiviso anche con i cittadini residenti di Centinarola abbinata ad un progetto di riqualificazione di una ex fabbrica e lì nascerà c'è una copartecipazione anche per estendere e allargare e rinnovare in parte nuova scuola di Centinarola anche con uno spazio per fare attività fisica quindi stiamo andando in quella direzione ovviamente sono interventi che non si fanno in sei mesi in un anno ma spero insomma per fine mandato di poter dire che c'è una nuova scuola a Centinarola invece a Cucurano? sempre per la scuola? Cucurano è finito i lavori sono finiti adesso ci sono i particolari però ormai il lavoro è veramente finito per l'ennesima volta a nome dei condomini del condominio Borgoggelli si segnala che nel tardo pomeriggio fino ad oltre alla chiusura del bar del bar che c'è lì vicino tutti i giorni si recano si creano sembramenti di ragazzi sia in via Nolfi che in via dei Borgoggelli giovani che urlano ubriachi litigano senza mascherina sporcano anche con bottiglie bicchieri fanno pipì e tanto altro poi entrano addirittura nel cortile di questo condominio ieri lo stesso stessa situazione sono intervenuti ci hanno scritto sia i vigili urbani che la polizia però più di un tanto insomma è anche difficile poi gestire questi ragazzi operazioni che comunque vengono portate anche a termine come abbiamo visto nel telegiornale di questa sera dal commissariato di Fano però che cosa si può fare di più non potete aumentare i controlli e intervenire seriamente ci chiedono multando tutte queste persone beh noi insomma i controlli li facciamo abbiamo lo strumento che ha il comune la polizia municipale poi ci sono le forze di polizia che hanno anche maggiori strumenti per poter intervenire anche a seguito di incontri che abbiamo avuto anche con i residenti abbiamo installato una telecamera insomma abbiamo fatto alcuni interventi anche concordati la risposta è quella di incrementare le presenze però posso garantire che le presenze ci sono i controlli ci sono alcune volte non si vedono ma perché è giusto che non si vedano e ci sono magari filmano anche però sono situazioni non semplicissime da gestire il sindaco cerca di fare la sua parte ma ovviamente poi quello dell'ordine pubblico non è competenza anche nella responsabilità del sindaco ma ovviamente coadiuvato da chi fa questo mestiere sono le forze dell'ordine a cui va il mio sincero ringraziamento perché per quello che riguarda il nostro territorio anche con le difficoltà che hanno a cominciare da quello di organico sono sempre presenti hanno fatto negli anni sempre un bel lavoro di indagine risolvendo quasi tutti i casi di reati significativi quindi ecco mi sento anche in qualità di sindaco di esprimere il senso di gratitudine e di ringraziamento a tutte le forze dell'ordine ci scrive un familiare di un ospite del centro Alzheimer Margherita sindaco lei ha raccolto mesi fa il nostro appello il grido d'allarme ma è ora di verificare la situazione attuale ci dicono intanto in un centro di eccellenza di questo tipo serve una coordinatrice brave con esperienza come Fabiola Pacassoni che non c'è più e questa cosa mi stupisce perché personalmente non lo sapevo e ora che controllate i servizi che vengono erogati il sabato adesso la struttura rimane chiusa le dieci ore non vengono più garantite mancano gli infermieri le attività che fanno gli anziani non vengono più comunicate ai familiari nonostante poi tutte le tecnologie che ci sono il giorno d'oggi contributi che hanno ricevuto che ha ricevuto questa struttura dove sono stati spesi la situazione è solo peggiorata tra l'altro ricordiamo che non è di competenza comunale nonostante questo mesi fa avete intervenuti con 40.000 euro oltre 20.000 euro abbiamo cercato di fare la nostra parte perché lo dicevo prima e anche il bilancio di previsione tiene conto di quello che è il disagio di quelle che sono le problematiche ma di coloro che rischiano di rimanere un passo indietro e quando ci sono situazioni pandemiche di crisi le situazioni peggiorano abbiamo cercato di fare uno sforzo abbiamo messo risorse aggiuntive tenendo conto anche delle difficoltà di chi gestisce perché chiaramente ha colpito anche i gestori nell'agenda adesso non ricordo il giorno è in previsione un incontro proprio per il centro Margherita con gli operatori con i vari referenti proprio per fare un po' il punto perché anche su quello essendo un centro di eccellenza è giusto fare un ulteriore passo in avanti è giusto che anche le strutture regionali siano consapevoli so che c'è un interesse anche da parte di altre strutture importanti che possono portare un valore aggiunto però è chiaro qui parliamo anche di risorse con convenzioni che devono essere stese da parte della regione su questo Fano un po' per un gap negativo nel tempo che si è accumulato in base alla popolazione in base al ruolo che ha merita ulteriori convenzioni per questi servizi ci chiedono intanto se fosse possibile aumentare i controlli aumentando l'organico della polizia locale poi altre proposte molto interessanti buonasera bravo sindaco vorrei proporre l'idea di liberare le mura storiche perimetrali che cingono la città quindi via Cavallotti via Giulio Cesare dai parcheggi delle auto e sostituirli invece con una pista ciclopedonale a servizio dei cittadini turisti consentirebbe di fruire e valorizzare le bellezze storiche di Fano questa è una bella proposta ha ragione poi ovviamente si scontra con chi vuole il contrario perché poi quando parliamo di parcheggio l'abbiamo visto anche recentemente però sui luoghi belli è giusto che le bellezze siano ben visibili propongono anche di fare un assessore alle zone periferiche e quindi una persona che possa poi incontrare questi cittadini residenti per avere delle segnalazioni e concentrarsi appunto sulle periferiche guardi su questo c'è la sensibilità anche il nuovo assessore si sta concentrando molto su questo però non dimentichiamo che siamo in una fase in cui è difficile fare le assenze non è difficile non si possono fare siamo in zona gialla siamo stati in zona arancione quindi certi processi a cui eravamo abituati io stesso vorrei andare a incontrare i cittadini nei quartieri a raccontare quello che stiamo progettando a raccontare a raccogliere anche quelli che sono i suggerimenti l'indirizzo e le critiche perché anche le critiche aiutano a farci muovere bene stiamo lavorando anche sulla definizione dei quartieri dei consigli di quartiere che anche questo fiè fermato con la pandemia ma abbiamo deciso di riprenderlo in mano perché diventano uno strumento importante che vanno in questa direzione però ecco un giorno quando avrò un po' di tempo voglio tirar giù magari lo possiamo fare anche insieme a Fano TV tutti gli interventi che abbiamo fatto in tutti i quartieri in questi sei anni perché scopriremo che non c'è un quartiere dove non sono state destinate risorse significative e dove abbiamo fatto interventi poi è chiaro c'è da fare c'è sempre non manca mai come nelle nostre case c'è sempre qualcosa da fare ecco a proposito di risorse poco fa i regi hanno chiamato per chiedere informazioni sui giochi in Sassonia perché sono spariti anche lì si sta intervenendo anche in Sassonia non facciamo un lavoro totale perché è uscito il bando sul waterfront sulla progettazione quindi aspettiamo che arrivi quello però stiamo intervenendo per risistemare alcune situazioni un po' di degrado stiamo risistemando l'area dove ci sono i giochi ci sarà anche una rampa per agevolare l'ingresso anche chi ha difficoltà motorie viene risistemata la rosa dei venti tante critiche tante volte rissegnata da voi sistemeremo l'ingresso della passeggiata dell'Isipo stiamo già ragionando con il nuovo centro di ricerca internazio biologia marina insomma per capirci lì lo allargheremo verrà fuori un bel lavoro fra l'altro i lavori interni per i laboratori stanno per essere ultimati quindi il centro si sta avviando a pieno regime tra pochissimo quindi sarà sistemata anche si sta facendo ragionamento anche sui murales che col tempo hanno perso un po' di colore e poi adesso non mi ricordo insomma anche lì in Sassonia quindi dove alcuni giorni sono stati portati via perché erano rovinati ma se ne prevedono degli altri spostiamoci un attimo nella zona del Lido perché sono nate molte polemiche anche domani ci torneremo probabilmente nel nostro telegiornale per queste panchine panchine che possono essere belle o brutte però un po' scomode il sindaco lo sono che cosa ne pensate? perché avete ricevuto tante critiche su questa scelta intanto queste erano non erano previste per quella zona erano panchine in magazzino lasciarle in magazzino diventerebbe un altro delitto perché si ammalorano e rispiamo di rovinarle quindi sono state poste su quella passeggiata intanto per carità non sono comodissime però sono sempre panchine e abbelliscono quell'area c'è anche la pavimentazione che non è messa bene non per quest'estate ma per quella successiva verrà risistemata stiamo pianificando l'intervento lì a Lido ma poi cambierete anche le panchine oppure ormai rimangono quelle? no quelle possiamo mettere anche da un'altra parte adesso quelle le abbiamo poi adesso quando si cambia le altre erano ammalorate sono state buttate via perché non erano più presentabili prima che si facesse male qualcuno poi dopo come tutte le cose c'è chi piacciono di più e chi non piacciono quella perché è freddo quando mi siedo e adesso è inverno però d'estate magari aiutano rinfrescano quindi però adesso guardarle così non sono brutte sono un design sono un design possono piacere o non piacere per carità ma su Lido c'è anche un ulteriore intervento nella Cavea si sta risistemando il verde la sostituzione dell'illuminazione scenica poi verranno messe delle palme in sostituzione del come si chiamano pitospori ok quindi sono anche belli da da vedere quindi anche lì avranno un tocco un'eleganza maggiore un passetto alla volta insomma arriviamo quest'anno adesso stanno penso stiano già lavorando oppure è questione di poco il parcheggio all'interno della rotatore di porta maggiore è bianco o blu perché ci sono sempre le auto in sosta questo è vero invece chiedono quando verrà realizzata la rotatore vicino al Codma Emilia Campanella sì dobbiamo ancora appaltare i lavori il progetto c'è c'erano delle autorizzazioni ulteriori questo purtroppo è il paese delle autorizzazioni poi se mi farà la domanda sulla caserna del Gifuoco le dimostrerò anche su quello insomma se vuole ci puoi rispondere subito se non si risolve questo problema della burocrazia ma che vale anche per noi amministrazione ogni cosa va fatta a tre volte quindi non riesce nemmeno a dare una tempistica in questo senso fino a che non vi arrivano sì no adesso sono ulteriori pareri poi dobbiamo quindi va riportato l'esecutivo per l'approvazione definitiva poi la gara insomma ci vogliono di me insomma diciamo per il 2022 di averla per la caserna infatti c'è uno scritto ma non doveva essere pronta dopo l'epifania e non mi rimangio quelle parole perché è tutto pronto c'è già la ditta dovevano partire però anche qui prima di far partire con la posa della prima opera il ministero doveva ridare un'altra dimazione che ci ha mandato però ha dovuto mettere due virgole comunque anche questa è conclusa e ci ha fatto perdere questo mese e mezzo per arrivare a febbraio a febbraio volevo fare la posa della prima opera che significa che i lavori sono già iniziati perché la posa non si fa proprio il primo giorno si fa quando si inizia a scavare però anche questo finalmente è arrivata qui devo ringraziare anche il comandante provinciale di Vigelfuoco che è stato disponibile anche a fare qualche telefonata per sollecitare questa cosa però adesso ci siamo proprio non dico epifania ma dico insomma adesso veramente magari intendeva la prossima no però buonasera vorrei proporre al sindaco di realizzare una rotatora nella statale adriatica per accedere alla località torrette perché in questo modo si vederebbero la pericolosità per l'attraversamento dei pedoni dei veicoli ma anche inutili code nel periodo essivo però le rotatorie non le possiamo fare dappertutto quando parliamo di strade ANAS il comune non può fare rotatorie anche a Metauriglia il problema non è il non farle è che ci sono certe caratteristiche che noi non possiamo intervenire il problema è che nel dialogo è nella soluzione di questi problemi che alcune volte sono più difficili del reperire le risorse via della trave lì avete installato una strettoia i residenti ci hanno detto siamo molto arrabbiati perché è più pericoloso di prima tanto io lo so le soluzioni o questa o l'altra non è che ce ne sono beh ma lasciare come prima no? anche oggi come prima erano tutti contro adesso sono provvisori si prova per capire se funziona o non funziona quindi sperimentali si sperimentano le cose perché nessuno ha la bacchetta magica nessuno ha la sfera dove legge il futuro quindi si provano si sperimentano se funzionano si va avanti se non funzionano sono di plastica appoggiati lì si tolgono invece c'è un tratto delle nuove opere compensative dal Belgatto fino a Via Roma che sono state chiuse la corsia a sud che cosa si devono farvi non è del comune sappiamo la responsabilità dopo viene in carico all'amministrazione comunale però finché non c'è il passaggio dovevano finire dei lavoretti accessori quindi rimarrà chiuso ancora per un po' sindaco l'ex Agip ci sono novità? stanno lavorando con l'università di Ferrara architettura per capire quale tipo di progetto fare è un ragionamento che non si fa pensando soltanto all'ex area Agip ma tutto il dintorno poi ovviamente l'intervento iniziale sarà con l'ex area dell'Agip però diciamo diventerà un arredo stradale che tenga conto anche del progetto storico quindi anche questo tende a rendere una città sempre più piacevole e bella ciao Massimo un po' di tempo fa l'assessore Fanesi mi avevate detto che dopo la costruzione dei loculi al cimitero di Caminate si sarebbero potuti costruire anche a Rosciano è passato ormai un anno dal termine dei lavori a Caminate l'ufficio del comune mi ha detto che hanno richiesto per almeno 60 loculi che i Fanesi intenderebbero acquistare quando li costruite visto che insomma se non fate esumazioni non ce ne sono grazie Sandro Goffi sì lì a Rosciano li ho inaugurati io ne abbiamo costruite di nuovi poi le esigenze sono sempre maggiori perché c'è chi le acquista anche per il futuro adesso devo anche dire che la tendenza sta cambiando sempre più le persone le salme vengono cremate le famiglie scegliono anche questo percorso adesso la fotografia precisa non ce l'ho sotto mano però non abbiamo problematiche particolari c'è chi vorrebbe acquistarne magari pensando al futuro ma noi auguriamo che l'esigenza arrivi sempre il più tardi possibile per ognuno di voi di noi Casellino invece a finire per la 14 beh io sono d'accordissimo siamo tutti d'accordo perché devo dire è una di quelle poche cose dove a 360 gradi al 100% siamo tutti d'accordo posizione maggioranza io avevo già iniziato con la precedente amministrazione regionale a riprendere il tavolo con società autostrade perché il lavoro non si è ottemperato l'accordo stato-regioni che prevedeva anche l'elezione del Casellino io ho firmato la convenzione e devo dire oggi per fortuna ho firmato perché le opere le abbiamo fatte la vicina peso ancora deve iniziare stralciando il Casellino per le opere ma non dalla progettazione poi c'è stata un'interruzione dopo la caduta del ponte di Genova dove i rapporti tra società autostrade e il governo si erano interrotti adesso so che il presidente Acquaroli con il nuovo assessore alle infrastrutture hanno incontrato società autostrade per riavviare il percorso ma c'è solo da dare applicazione le risorse erano già previste e quella diventerà un'opera molto comoda e utile per il collegamento tra Fanno e Pesaro visto che a Pesaro ci sarà un nuovo casellino Pesaro Sud Invece per il parco e il campo d'aviazione che si è fermato non si è fermato stanno lavorando sulla progettazione del secondo stralcio fra l'altro avete visto abbiamo già fatto anche il progetto per il recupero della ex casa del custode lo abbiamo inserito anche nel bando periferie quindi potrebbero arrivare ulteriori risorse da destinare alla progettazione complessiva quindi stiamo progettando lavorando sulla progettazione del secondo stralcio per fare l'esecutivo San Pietro in Valle invece quando verrà riaperta al pubblico? Ecco San Pietro in Valle aspettavamo l'approvazione del bilancio che è avvenuta il 17 il 18 anzi e abbiamo stanziato delle risorse già le ditte le avevamo individuate quelle di chiamare poiché si tratta di risorse sotto soglia per intervenire subito sugli stucchi che erano caduti per il primo intervento quello dovrebbe consentire la riapertura per lo meno in sicurezza e mantenere almeno il portone e un accesso se non proprio completo da San Pietro in Valle però non vogliamo fermarci lì perché è uno dei gioielli io penso sia il gioiello più bello che la città che ci invidiano in tanti ci sono state anche critiche nelle settimane scorse che io ho raccolto perché penso che avessero ragione come dico alcune volte le critiche aiutano non si è fatta in modo costruttivo per andare avanti quindi l'obiettivo è poi quello di fare un'ulteriore indagine per capire l'intervento definitivo e le risorse vere che occorrono una volta per tutte per concludere tutta l'opera per San Pietro in Valle ci riscrivono da Ponte Sasso per dirci se per i fanesi le panchine sono un problema a Ponte Sasso andrebbero benissimo quindi loro insomma si accontentano ci stanno scrivendo per tante vie insomma da sistemare per quanto riguarda l'asfalto se mi fa questa promessa la prossima volta guarda porto l'elenco delle strade che mettiamo nel prossimo elenco su cui ho già preso l'impegno e altre e comunque magari diamo come si fa con gli alberi anno per anno le strade che siamo in grado di fare ci chiedono se siamo gialli o arancioni domani giusto una piccola informazione siamo circondati perché Ancona Perugia e Rimini ci sono le varianti e sono situazioni critiche noi ancora siamo circondati ma ci stiamo contenendo speriamo di rimanere in questa situazione per cui ancora una volta diventa importante i nostri comportamenti lo dico a tutti io mi rendo conto che il nervosismo sale ci stiamo stancando ma lo vivo anch'io questa situazione però non si può scherzare e la vera differenza la facciamo con i nostri comportamenti in attesa dei vaccini allora anche i ragazzi quando si ritrovano teniamo la mascherina troppe volte vedo anche in centro dove ci sono zone ci sono alcuni locali troppi assembrati con le mascherine sotto il mento le mascherine servono per essere indossate utilizzate poi è chiaro quando uno beve una bibita non può farlo con la mascherina però quando si cammina quando si è in gruppo è necessario tenere questi comportamenti responsabili nell'interesse di tutti ci chiedono anche un po' più di attenzione per i passeggi perché sono lasciati abbandonati sì proprio oggi l'assessore mi ha comunicato che non in questi giorni perché ha piovuto quindi ancora bagnato sotto non verrà messo un ulteriore breccino però non posso ancora annunciare nulla però sui passeggi potrebbero esserci ulteriori interventi importanti di riqualificazione però ancora non posso annunciare nulla perché sto parlando anche con altri livelli istituzionali e quando sarà il momento comunicheremo il tutto però ecco diciamo possono arrivare forze rinforzi extracomunali per migliorare i passeggi che sono una cerniera bella che ha rappresentato anche un certo riferimento per la nostra città negli anni per quello che ci riguarda alcuni interventi che abbiamo fatto avete visto tutte le illuminazioni il chioschetto risistemato portate dei giochi nuovi è chiaro che ancora ci sono interventi da fare però cominciare dalla segnalazione che è anche avvenuta in questi giorni per quello che riguarda il breccino che nel mese di marzo verrà riportato devo fare purtroppo una carrellata perché siamo in chiusura ci chiedono per il museo civico beh in questo caso dipende anche da quello che deciderà il governo il divieto dei camion via camminate non lo rispetta nessuno la viabilità insostenibile per i pedoni con incidenti frequenti in via le Cesare Battisti è necessario che venga messa in sicurezza ma serve anche la pedonalizzazione al vallato chiedono invece i lavori per i marciapiedi in fondo in fondo al vallato marciapiedi anche in via Alberti dicono che gli aveva promessi e poi i lavori allo stadio qua le chiedo se insomma ha delle novità se finiranno a breve o ci sono dei rallentamenti no adesso rallentamenti particolari non mi risultano fortunatamente ci ha agevolato il fatto che la pandemia ha vietato la presenza dei tifosi degli spettatori quindi ha consentito anche di lavorare e per la ripresa insomma dovrebbe essere tutto a posto Via Dante e Lighieri ci chiedono il progetto per il parcheggio e anche la pista pedonale che era stata promessa sì penso che sia questionerante di poco perché avevano individuato anche la ditta lo seguiva l'assessore non vedo ostacoli particolari fra l'altro iniziavano proprio da da questo dell'appalto complessivo era il primo intervento da fare quindi veramente penso sia questione di pochissimo Sindaco siamo in chiusura speriamo veramente come ha detto prima di rimanere in zona gialla anche perché è fondamentale per aiutare non solo i lavoratori ma anche tutte le attività economiche tutto l'indotto quindi cerchiamo di essere bravi noi in primis a rispettare tutte le regole anticontagio intanto vorrei ringraziare il regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora e anche lei Sindaco ovviamente per essere tornato nei nostri studi grazie a tutti buonanotte a tutti i telespettatori spettatori di Fano TV e l'appuntamento con l'informazione torna alle 22.30 con il telegiornale poi domani mattina alle ore 7 la rassegna stampa arrivederci a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori